Ti ha passato, Pino, un'anecdota con un napoletano, no? Si, tenia una pizzeria, era un viernes, ma quello stava a rimentare, io sudato, pizze pari, però l'aneddota è che mi viene e mi dice, tu sei il pizzaiolo, e ho detto, eh, non so chi ha la pizza, mi dice, la pizza non è buona, la pizza buona tiene che tenere meno mozzarella, poi tocchi, tiene che essere il borde massange, e io lo dico a un certo punto, e io dico, ha terminato? Si, e io dico, grazie a questa pizzeria, secondo tu che faccio, mi comprei tre appartamenti, ho un nico che va all'università, ho un coachazzo, ho un'ampisita alla playa, la mia moglie sta lì, si va tutto il dia al ginnasio, a depilarsi, fa una bella vita, ora viene un c***o di Napoli a dire come ho fatto la pizza, ho detto, ma vente a tomare un pollo del c***o, ha scritto il fumetto.